Cronaca nera, un ragazzo di 19 anni morto questa mattina a Teramo dopo essere stato investito da un'auto mentre intorno alle 5.30 stava percorrendo in bici la statale 80 nel territorio della frazione di Sant'Atto. All'arrivo dei sanitari del 118 il giovane era già privo di vita sull'incidente avvenuto in un punto privo di illuminazione pubblica, indaga la polizia stradale. Il 19enne nigeriano era da poco uscito di casa per andare al lavoro del vicino nucleo industriale quando è stata appunto sopraggiunta questa Fiat nello stesso senso di marcia che lo ha travolto e trascinato per circa 200 metri. Conducente dell'auto che si è fermato ha poi riferito di aver pensato di aver investito un animale. La salma del ragazzo è stata composta all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo a disposizione del magistrato e auto e bici sono state poste sotto sequestro.